Buon salve a tutti, oggi dopo un po' di tempo siamo tornati nei glitch dei videogiochi Oggi ne vedremo delle belle secondo me Ho scelto una top di 50 divertenti glitch Sappiamo come funziona il mondo del gaming che quasi spesso capitano glitch, fail e quant'altro Soprattutto ultimamente su Cyberpunk ma è una cosa che vedremo a parte Se volete che vi mostri anche i glitch di Cyberpunk, spolliciate ovviamente, lasciate un botto di like Anzi, vi ricordo di seguirmi anche nei social, importantissimo Iniziamo Ok, questo è GTA Ma che cazzo è un'auto invisibile? Non ricordavo che su GTA V ci fossero le auto invisibili Pensavo fosse solo un trucco di San Andreas, ma ok Ma che cazzo Benissimo, benissimo Ok, questo dovrebbe essere un altro gioco della Rockstar Che non mi viene in mente adesso E c'è il carro impazzito praticamente Sempre GTA Con un tizio che si uccida Bene Ma che cazzo Ma che cazzo Questo è assurdo Ecco il nostro carretto impazzito ancora Bene, fixate quel carretto Ma che cazzo What the fuck Eh, attenzione Questo cavolo cammina la solitizia e è rimasto appeso Così Attenzione Ma Tutto normale Tutto normale Tutto normale Non sto capendo nemmeno io che sta succedendo Sono cose assurde Ecco qua Ovvio Ovvio Quando vuoi fare una partita fatta bene E poi ti succede questa cosa Normalissimo, eh In un game Ancora il nostro carretto impazzito Che Non si è fissato ancora Fixato in qualche modo Vediamo se così ci si riesce No, è diventato il cavaliere senza testa in poche parole Ah no, forse No, è inutile Questo corpo è impossibile da ammazzare Ok Ma perché c'è una tizia che sta vomitando nel cesso Con un altro tizio dietro che ci sta pisciando E' una combo E' una combo Eh Ok Ma che c'è Tutto normale Ah, è svenuto A posto Oddio Ce la farà No Ah, però è rimasto vivo Vabbè, meglio così Ma che c... No Dentro il pavimento Come cacchio cammina Che cacchio sta facendo Sembra tipo i cani quando si aggrappano al piede Ok Ma che c... No No No, è assurdo Si è auto... Come posso dire? Auto legato in poche parole E' frustrante giocare così Un altro tizio conficcato nel pavimento Bene, è scomparso Ciao amico mio Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Ok E' scomparso il cavallo Dove è finito Boh Magia Come cacchio sballonzano quelle tette Ok Interessante Come vincere facile Ma che c... E' resuscitato Che cosa Bene Come non usare il rampino E... C'è rimasto conficcato proprio Va bene I need you to be who you're supposed to be Don't let nobody stop me from being who you're supposed to be Don't let nobody out talk to you Don't let nobody tell you the door is a shit Don't let nobody tell you that opportunity don't exist Don't let nobody tell you that I need you to be who you're supposed to be Because when you are who you're supposed to be You're super Ma no 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 Povero tizio Eh na madonna E che cacchio è quel coso Che cacchio è quel coso Che lo insegue C'è una valigetta che... Che vola E che segue il tizio Bene Questo sarebbe utile Oh wrestling La tizia si è glitchata praticamente Tra... Le corde del ring Lei sta ballando praticamente Sta facendo un balletto Tutto normale Tutto normale Ehm... Questi stanno facendo un gesto particolare La polizia tutto ciò Polizia è il tizio Ehm... Ma che cacchio C'è un tizio che galleggia sulla testa di un altro Ehm... Tutto normale Ehm... E' rimasto praticamente buggato Ma che... Ma che f... Ma... Ma... Ma no! No la testa dove gli si è ficcato in culo E' ritornato il tizio Ed è rimorto Risuscita Rimuore Praticamente va avanti così per un sacco di tempo Ecco Oh Assassin's Creed Credo sia Assassin's Creed Bene Le acque come Mosè praticamente E spavano notizie a caso Dal cielo Piovono persone Ottimo direi Va bene Ah e poi Ritornano su nel cielo Ritornano nel paradiso E' bellissimo E' bellissimo Ok No come non prendere un treno Attenzione la prossima volta Quando prendete i treni Ma che ca Gli attraversano le persone Ma che cosa sta facendo Con quel braccio Oh FIFA FIFA vabbè E' l'emblema del glitch Ma il portiere che problemi ha Ecco Il portiere ha tanti problemi Ok signora Bene abbiamo preso un passeggere Ok sto tizio si sta facendo il bagno Mentre la casa va a fuoco Lui fa una bella doccia Un bel bagno Ok La tizia è praticamente svenuta A posto Oh vai picchialo bene E dove è finito? Oddio sto tizio Sembra tipo il cane quando strofina le chiappe per terra Stessa cosa Oh Minecraft Quale sarebbe mai il glitch di Minecraft? Ah che le munche volano Così a caso Ciao munche Ok Camminare in modo soprio Come non camminare Che cacchio sta facendo? Gli si è clicciato il piatto Oddio Quando un gabbiano ti uccide Non ho mai visto una cosa del genere Ma ok Oddio Cosa potrebbe mai succedere? Perché c'è uno squalo Nella sabbia Così A caso Quello è David Rubino Bene questo tizio Ha degli spasmi Tanti spasmi Ok Non riuscirai mai a buttarlo giù È buggato il tizio Ritorna indietro Sbagliavo 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 Ma che cacca? Sono diventati due in uno Il tizio praticamente è impazzito Con le gambe che si allungano Va bene Va bene Ok È uscito proprio dalla mappa Ok Quale sarebbe mai il glitch qua? Ah Che invece di nuotare Sta praticamente volando nell'acqua Che dire Sono abbastanza interessanti questi glitch Ripeto Se volete altri video di questo genere Spalliciate Appena un posto Io direi di chiudere qua Questo video Vi ricordo di lasciare un bellissimo like Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Di seguirmi su tutti i social Mi raccomando E niente Noi ci vediamo alla prossima Chissà con i prossimi glitch Ciao